a luca lo fa la grande la pianta lì la vita vedi che ha le super ridotte sono insieme sono insieme vai vai mi fa sembrare faticare è nulla bello bello però lui ha lo scarico è buona la macchina qua è l'absoluto il 2003 vai vai Manu vai Manu bello ok è quello gü L'anno scorso l'ha distrutto Con calma, con calma Manu Con calma Manu Niente da dire Vedi questo è un canham normalissimo E' piccolo Donna si è silenzioso E' decisissimo questo Chi è? E' Leonardo E' Leonardo E' un carico E' un carico Leonardi fa paura con sta roba ma Questo qui è la fine Non puoi neanche manovra questo Questo è dal marmita originale Lo manderà a funghi Quello Lex del Leonardo Si va bene che le viene tratte Ma che cannone che è Possiamo Dopo No, no, no. Grazie a tutti. Adesso. 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 Davvero. Guarda il nero, guarda il nero Quanto è quello che ti metto a letto? 106 malattie Eh no, devono mettere il 3 perchè abbiamo un po' più... ...20 Ma che troia? Buono, sono a portiere Ah, andiamo lasciando passare Forza voi, ho uno di troppo qui Ha chiuso la polpira però Vai Sì Non è la macchina per lei ancora Assolutamente Dai, su Quella è grande Dai 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 Brava Sì Forca boia Mi lascia viaggiare con il suo Ma che ne ha la patata? E' sinomadi Senti che bel rumorino di... Ingranaggi Ingranaggi di ishi Forca boia Ehhhh 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 Oh io l'ho preso Tanta roba Oh, ferm 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 Ma no Ma lì è lui che ha perso E' lui che ha perso Io piano, io piano, io piano C'è poi del video Cazzo, guardi poi su Youtube Io campan Dimenticato la rossa in forno Ho preso paura che la metta in piedi E' accelurato Uhhhh Uhhhh Non sa che ha strappato? Ehi, passa ruota Ha scoppiato il radiatore va? Ha scoppiato l'olio Scoppiato l'olio Si dal tappo proprio Ha scoppiato tutto zizio Ma fai scendere la via Senti a cavo Ehi, cavo Pfff, poca boia Fenomeni proprio Non la lasciate in danciare Ehh Ma più tanto con... Bisogna anche vedere se Frena ancora In giro in lavatrice la fattura Perché quando la robisci...